Ma tanto, tanto, troppi, stacchi qui, dentro da Roma, troverai, oh yeah, sei bughe, mille bughe e voragini che non coprono mai, perché Roma. C'è so bughe, dove? Roma! Bughe, c'è c'è, c'è c'è, c'è c'è, c'è so bughe. Beh, è una bella cosa questa. Eh beh, sì, dal 94 finalmente sono tornato. Hai dei ricordi? Sì, all'Aprilia sulla piazza c'era una cosa incredibile, la gente che affollava questa piazza e che acclamava Fiorello, una cosa. Grazie.